Desidero oggi con voi fare il punto della situazione delle azioni messe in campo da questa amministrazione in collaborazione con i volontari e con le associazioni durante questa fase di emergenza sanitaria Covid-19. Sono stati distribuiti buoni spesa a quasi 500 famiglie e nei prossimi giorni comincerà la distribuzione relativa alla seconda fase, quella riguardante la parte residuale del finanziamento. Un accordo stipulato con gli operatori economici del territorio ci ha consentito di avere un occhio attento anche al tessuto commerciale orbassanese. Sono state distribuite oltre 8.000 mascherine presso le RSA, le farmacie, i medici di base, gli operatori economici quali a loro volta li hanno distribuiti a quelle persone che arrivavano nell'esercizio e ne erano sprovvisti. È stato organizzato il servizio della spesa a domicilio per i generi di prima necessità e per i farmaci grazie all'operato della protezione civile. Nella fase 2, cominciata da lunedì, abbiamo riaperto i parchi, quelli di più grandi dimensioni, non prevedendo per l'utilizzo delle attrezzature e dei giochi bimbi, così come ci viene richiesto dal DPCM del governo, al fine di evitare gli assembramenti. Abbiamo inoltre riaperto da mercoledì il mercato, che seppur ridotto, ha mostrato un bel numero di banchi, gli ingressi erano tutti contingentati ed è andato molto bene. Giovedì vi è stata la riapertura del cimitero, quindi potremo nuovamente andare a ritrovare i nostri cari. Da ieri è partita la distribuzione delle mascherine ricevute dalla regione Piemonte, alla quale si affiancherà una distribuzione di mascherine acquistate dall'amministrazione comunale e che verranno distribuite alle 10.500 famiglie presenti sul territorio orbastanese. Vi chiedo di avere pazienza, arriveremo su tutto il territorio, è un'operazione abbastanza complessa. Voglio solo farvi un appello, fare un appello a noi e a voi, ricordando nuovamente i comportamenti responsabili, ricordiamoci che saranno proprio questi a portarci fuori da questa seconda fase, a portarci fuori da questa emergenza sanitaria e a riprendere la nostra quotidianità. Mi rivolgo ancora ai bimbi orbastanesi e chiedo a loro di portare pazienza ancora un pochino, perché poi potranno riprendere a giocare nei loro giardini e con le loro mamme, con le loro famiglie, nuovamente creando questa gioia sul nostro territorio. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.